Slita ancora l'apertura della biblioteca comunale di Forte Remarmi al piano terra di Palazzo Quartieri. Mentre si attendono gli esiti della lite giudiziaria con l'imprenditore Luca Caprai, che andrà in tribunale il 25 maggio, i tempi per il ritorno degli studenti in centro si allungano ancora. Lo ha spiegato l'assessore lavori pubblici Enrico Ghiselli. La nuova biblioteca doveva essere pronta per la fine di maggio, ma si arriverà probabilmente a fine luglio. E su questo devo chiedere scusa ai miei concittadini, perché pensando sempre in positivo, credevo che entro la fine di questo mese o all'inizio del mese prossimo avremmo potuto aprire definitivamente Palazzo Quartieri, il piano terreno e quindi la biblioteca. Non tenevo conto dei rischi eventuali che potevano essere determinati da mancanze da parte delle ditte che avevano vinto il bando per l'appalto. Chi ha vinto gli appalti per il giardino verticale e per l'illuminazione purtroppo non ha consegnato nei tempi di legge e anche se sollecitato successivamente non ha fornito alcune documentazioni d'obbligo, per cui ora stiamo valutando l'opportunità di appaltare ad altre imprese, ma questo ovviamente ci comporta d'obbligo un ritardo consistente nei tempi di produzione. Ma quando slitteremo? Ma io voglio essere molto pessimista a questo punto, perché visto e considerato che sono stato smentito nel mio ottimismo, io credo che entro il mese di luglio si possa effettivamente arrivare a dare la dotazione. Grazie a tutti.